una sera mi mi chiama mi dice non ti vedevo da una settimana stavamo litigando questa comunque una bella ragazza mi ha saltato addosso tutta provocante così cosa brambilla il cognome francesca brambilla se lui bussasse alla casa del grande fratello rimarrebbe fuori sotto la pioggia con un piccione che gli caga in testa post che questa giorgia ha messo su instagram quanto gli piacciono i followers a queste o fammi vedere barbara non vedo l'ora vai poi però è stato rimosso è e beh certo credo che ci sia un po ma con tutte ste corna io non ci capisco più niente grazie grazie